È stata inaugurata al primo piano dell'ospedale San Luca di Lucca la mostra fotografica Memoria. La salita ancora non è finita, ma la vetta è più vicina della valle, dedicata all'emergenza sanitaria da Covid-19. L'esposizione, visitabile per un mese fino al 15 novembre, raccoglie alcuni scatti del fotografo Alessandro Conti, effettuati all'interno del presidio ospedaliero, in particolare nella struttura di terapia intensiva, soprattutto nel corso dei mesi di marzo e aprile. Lavorare e fare un reportage dentro una terapia intensiva ti porta a lavorare dentro una bolla di concentrazione talmente elevata che non devi essere praticamente d'intraccio al lavoro dei sanitari. Poi la possibilità di interagire con i DS dell'ospedale, tutti gli infermieri, tutti gli OS, praticamente tutto il personale che bene o male ti dava la possibilità, senza però essere d'intraccio, di lavorare è stato qualcosa di veramente entusiasmante. Per la direttrice sanitaria del San Luca, Michela Maielli, è stata l'occasione per ringraziare nuovamente il personale ospedaliero. Ringrazio il personale perché proprio in questa emergenza, questo tumulto, noi abbiamo chiamato un'onda che è arrivata, hanno saputo reagire con la loro capacità professionale, con la loro capacità di adeguarsi al sistema, e ringrazio anche che abbiamo avuto un ospedale così, diciamo, duttile che ci ha permesso di progredire e di gestire tutti i pazienti e questo ci ha permesso di tenere questa emergenza, di contenerla.